Ciao a tutti, sono Fabio Vitiello. Oggi abbiamo per le mani un argomento piuttosto interessante. Il video che faremo riguarderà le casse. Proveremo quattro chitarre differenti, chitarre famose, comparando prima due casse costruite con legno massello e poi una di queste casse fatta con legno massello GLB Sound con una cassa a multistrato. Perché così come il legno è un materiale risonante e cambia il suono di una chitarra, stessa cosa avviene nella cassa. Perché mentre la maggior parte delle casse che troviamo sul mercato sono fatte in multistrato, che è un materiale inerte, cioè che non vibra e non risuona, invece le casse in massello GLB Sound sono fatte con legno massello di alta qualità, che vibra e che quindi dà un particolare colore al suono. Proveremo con quattro chitarre che sono, come dicevo prima, le chitarre più conosciute attraverso una testata REV. Prima confrontandole una cassa in legno massello e poi una cassa a multistrato e poi, sempre confrontandole, in due casse fatte in massello GLB Sound con due legni, quindi con due materiali sostanzialmente differenti, per vedere come cambia il tipo di suono, come cambiano le armoniche, come cambia il colore. Andiamo a vedere le chitarre che utilizzeremo per questa dimostrazione, per questi confronti. Partiamo da quella che ho in mano, che è un Les Paul Standard Custom Shop Collector Choice, la Black Burst. Ovviamente stiamo parlando di Mogano, top in acero e tastiera in palissandra. Poi proveremo con una Stratocaster Master Build, quindi sempre Custom Shop, questa è una John Croods, una Telecaster 60 60 Style, in questo caso non è una vera e propria Fender, ma è un assemblato, ma suona molto bene. E infine una BNG, una chitarra sempre con la tavola in Mogano, la tastiera in palissandra, in questo caso una BNG Little Sister Crossroads, quindi la versione orientale, che trova una bellissima chitarra molto riuscita, con gli Unbucker. Utilizzeremo un pedale alla volta, quindi Genray Lemuran, poi il pedale che uso sempre io, che è un G2D Custom Overdrive, il primo pedale più scarico, quindi per un suono crunch, il secondo invece per un overdrive un po' più spinto. Il suono pulito lo affidiamo al canale pulito di questa testata REV, il modello è Generator 740, è una testata 40 Watt, con 4 valvole finali, 6V6. La cassa che compareremo con le due GLB Sound sarà una cassa con un tradizionale cabinet in multistrato di betulla, con due V30. Gli stessi coni che troveremo nelle GLB, che andremo a comparare fra di loro e a comparare con questa cassa costituita in maniera tradizionale. In queste due casse GLB Sound, di cui una è in un legno affine al Morgano, che è il Seicue, e l'altra invece è fatta con un massello d'acero, abbiamo montato due classici V30, assolutamente analoghi a quelle che troviamo invece nell'altra cassa in multistrato. Suonano molto bene, il suono cambia moltissimo, andiamo un pochino a sentirlo.